Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini parlando nel suo circolo di Campo Galeano in provincia di Modena ha annunciato la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico. Sento il peso e la responsabilità di questa scelta. Il PD non è in liquidazione. Nostro compito è rialzarci e rimetterci in cammino. Non dobbiamo copiare Meloni e Salvini, ma fare una cosa che loro hanno fatto con grande umiltà, stare tra le persone, nelle piazze, nei luoghi di lavoro e di studio. Il PD negli ultimi anni è scomparso da questi luoghi.